Sì, pronto? Sì, 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 ci vediamo allora giovedì alla stessa ora, signora. D'accordo, due compresse dopo pasto. Buongiorno, buongiorno. Sì? Avanti, avanti il prossimo! Che puoi messo? Avanti, buongiorno. 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 E lei chi è? No, lei è qui. Io non lo vedi cosa sono? Sono una dottoressa. Ma io cercavo il dottore che tu non c'è. Il dottore non c'è, ci potevo fare. Perché? È bella una prossima volta. Sono la sostituta. Venga, venga, ma dove va? Io qui ci sono per curare la gente. E lei che problema c'ha, mi scusi? Ma io, signora mia, da mia, ti proviamo a curare io sempre. Ma come fare il dottore? È un marco. Eh, va bene, ma io sono una donna. E che donna? E allora non si fida delle donne? Ma me ne vengono? Eh, si sieda, guardi, si sieda. Parli di meno. Ecco, mi esponga. Si sieda, prego, ce la fa sedersi? Bene, bravo. Ma lei, guardi, avrà anche una certa età, però devo dire che se li porta anche abbastanza bene. Un bello fringuellino, diciamo, no? Ma insomma, se mi è stato nel braccio, perché è una bella lusanza, lei si è potuta fare queste guaglietta lì. Chi è? Ma c'è un odore strano, guardi, un odore strano che proviene proprio da lì, guardi, vicino lei, vicino la sua gamba, guardi, guardi, che cos'è dentro quella busta? Cosa c'è? Ah, qua! Sì, cosa c'è? Niente, sono stata alla pescheria, gli ho comprato un po' di boccavara. Ecco, appunto, adesso capisco. Bello! Bello, fresco, soprattutto. Bello! Un pochino a chittare, Daliasse. Io stiamo con pescata bene, 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 40 anni a rete. Certo, 40 anni a rete. E poi mi sono tutta la sale. Un baccalaro ormai è tutta la piazza, da oggi stare. Senta, allora, lei è venuto qua per? Lei è di una uova, perché mi vuole fare un po' la pescina, e poi hanno un po' la caccia di andare a lì, ma che mi vuole. Bene, bene, bene. Allora, cominciamo con una visita alle spalle. Sa come può darsi che abbia qualche problemaccia? Allora, guardi, non si giri. Lei deve fare quello che dico io. Eh. Scusi, allora, con tutta la giacca... Ma con tutta la giacca la devo visitare? Sì, almeno con tutta la giacca la vorrei visitare. Solitamente la giacca e i pazienti la tolgono, guardi. Io non me ne la ho. Ma certo, ha letto tutto particolare. Allora, senta, comincia a dire 33. 33! Più 33? 66! Più 33? 99! Bravissimo, le spalle vanno benissimo. E ascoltiamo un po' il cuore. E si apra. Cuore, cuore, cuore. Si apra, si apra. Il cuore deve battere bene, deve pulsare. Il suo pulsa? Minchia se pulsa! No, pulsa, 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 le pulsa. Ma caccia, sono enti naturali! Ecco, apra, apra, vediamo se pulsa. Vediamo se pulsa. Pugsa! Ma come pulsa, guardi! Guardi, è una cosa fantastica! Pugsa le glopo a calare! Sì, senta, ma quindi lei è venuto qui per che cosa alla fine? Mi faccio capire. Cosa le fa male? Sì, senta, dottoressa, io muovo la farà, no? Non mi faccio capire? Sì! All'urina! All'urina, bene. E guardi, io ho questo piccolo... Piccolo! Adesso che ci basta! Ci basta, guardi, no? Si, avvado a calare, guardi, non mi faccio capire. Ma no, ma che cosa fa? Avvado a calare, mi faccio capire, non mi faccio capire. Ma, davanti a me magari, no? Sì, non mi faccio capire, non mi faccio capire. La deve fare qua per forza, si giri lei, guardi, o va dal bagno un attimo, ma che modi? Non mi faccio capire, non mi faccio capire, non mi faccio capire, non mi faccio capire. Allora, facciamo qui, avanti, guardi. Allora, sono sopra a buttare questo vasetto, perché la faccio a casa, ma scusate, c'è solo una ghiera, faccio una ghiera, faccio una ghiera. Va bene, va bene. Oh, e qui. Wow. Io volevo visitare... E chi è che è? Appendere, che fa? E il menisco. Chi è che vuole? Ma voglio dire, vediamo se le ossa, se le articolazioni vanno bene. Non è niente, 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 non è niente. Non è niente. Non è niente, niente. Non è niente, niente. Non è niente. Non è niente. Ma che cosa vuole? Non è niente. Non è niente. Non è niente. Ah, ora c'è restato tisa. Non è niente, non è niente. Non è niente. Non è niente, non è niente. Non è niente. Non è niente. Non è niente. Senta, allora adesso parliamo di cose serie. Lei mi sembra una persona molto sana, quindi qual è il problema? Mi dica. Che problema ha? Ce l'ho detto poco fa quando se ne è riuscita. E quindi quando è ciasuto che cosa mi ha detto? Che mi fa male la gamba. E quindi di fa male la gamba? E quale gamba? Questa. Questa. E mi scusi, ma lei quanti anni ha? Che c'è il secondo diario? Per 84 anni. E quindi se le fa male la gamba sarà l'età. Eh? Io non sapevo che lei non aveva niente. Io non sapevo. Ah. Perché? Perché? Secondo lei? Sì? Stiamo. Sì? Giuseppe. E adesso passiamo a lui. Vada vada. Sì, vada. Sì, vada. Sì, vada. Anzi. Arrivederci. arrivederci